Ci si è stretto a tutti quanti il cuore ascoltando la storia di Nebbia che però forse qualcosa ci lascia, qualcosa ci insegna proprio in virtù delle scorse puntate in cui abbiamo approfondito il tema della leishmaniosi e abbiamo detto più volte che può essere una malattia davvero letale per i nostri amici a quattro zampe soprattutto per i nostri amici cani ma anche per i gatti però bisogna veramente stare attenti e non sottovalutare assolutamente le insidie che ci sono là fuori perché è bellissimo far esplorare il mondo ai nostri amici a quattro zampe ma bisogna sempre avere attenzione ovviamente bisogna proteggerli soprattutto e c'è chi lo ha fatto come un adopter speciale lei si chiama Laura e ha davvero cura dei suoi due pet che hanno una storia difficile ma un presente meraviglioso si chiamano Ronnie e Kelly e sono stati in visita dal dottor Giuliano Sorrentino per farsi vaccinare proprio contro la leishmaniosi allora siamo andati là e li abbiamo conosciuti vediamo il servizio oggi nella clinica veterinaria NSL sono attesi due pazienti speciali due fratellini che sono stati salvati dai volontari e adottati da Laura la loro adopter che ogni giorno gli dà amore e cure la prima paziente ad arrivare è Kelly che si è già sottoposta allo screening specifico per la leishmaniosi ed è abile e ruolabile per il vaccino è un po' spaventata ma non è certo questa la cosa peggiore che le sia accaduta nella vita infatti indossa una museruola che la inibisce durante le visite dal veterinario ma non la infastidisce no ma lei con la museruola si rilassa paradossalmente non le dà fastidio non le dà fastidio è stata adottata o comprata? adottata no la signora ha un buon cuore e grazie alla sua adopter Laura con la quale ha un bellissimo feeling si lascia maneggiare tranquillamente dal dottor Giuliano Sorrentino la sua storia è difficile ma ha trovato una famiglia che la ama incondizionatamente e sta facendo tanti passi in avanti anche grazie al suo compagno di giochi Ronny che la sta aspettando proprio fuori dalla clinica veterinaria NSL eh sì perché poi sarà anche il suo turno comincia il colloquio col veterinario e la visita pre-vaccinazione allora volevo fare un po' di domande vomito, di arrea, tosse in queste ultime due settimane che si attiva non ci ho visto, erano perfette lei però sembra interessata ad altro è benitosa questa in camera la stiamo distraendo da questa visita anche Ronny poco più tardi si dimostrerà affascinato dalla telecamera ma non ditelo a Laura che non riesce mai a farlo stare fermo quando prova a fotografarlo sei informissimo, guarda che silhouette perché si ha preso qualche etto due etti? Eh vabbè ma sta bene intanto la prova costume per Kelly è superata mentre Ronny ha preso qualche etto nonostante la ferratissima alimentazione casalinga che Laura segue con attenzione perché Ronny ha tante intolleranze anche un bel pelo lucido sotto il pelo lucido di Kelly c'è un cuoricino che batte sano e tranquillo ora vediamo gli occhietti e le orecchie di entrambi la vita è fatta di queste cose se fossero queste le cose brutte della vita poi due coccole e mentre il dottor Sorrentino prepara il termometro per la misurazione della temperatura scopriamo che Kelly arriva da Salerno è di Salerno lei lei è un'altra e un'altra invece è San Torino una è rimasta la Tiberalia questa è una rischia bella e una più grande adottata purtroppo una non ha fatto una bella fine un'idea mi sembra riuscire si doveva la tasta di legno la piccolina appena adesso sta molto meglio abbastanza diciamo diciamo che è andata molto bene Kelly e Ronny sono pronti per il vaccino contro la lesmaniosi e Sorrentino ha un metodo davvero infallibile grattino forte forte sulla testa tenetela se no si sposta grattine fortissimo 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 più forte più forte non sente la cultura molto bene oh si missione compiuta per Kelly e per Ronny entrambi sono vaccinati ora e dovranno tornare l'anno prossimo per il richiamo Ronny anche prima dell'estate perché deve fare l'ecocardio di controllo visto che ha 10 anni e ama fare grandi nuotate al mare vuole essere pronto al 100% per godersi l'estate Ronny la dieta è colpa del dottor Sorrentino che lo vizia ciao Kelly ciao Kelly ciao Ronny siete stati bravissimi e la vostra dotter ha proprio un gran cuore e pensa alla vostra salute facendo tanta tanta prevenzione quanti momenti felici trascorri all'aria aperta con il tuo cane quante corse al parco vuoi ancora fare al suo fianco insieme state crescendo e insieme diventate ogni giorno più forti ma sei tu a doverlo proteggere dalle insidie che possono nascondersi anche nei posti più belli come quei piccoli insetti flebotomi o papataci che possono trasmettere al tuo amico a quattro zampe un'infezione letale la lesmagnosi effettua uno screening specifico e difendi il tuo cane prevenire è possibile Anicura Clinica Veterinaria NSL ti offre la visita clinica il colloquio con il veterinario il prelievo di sangue e la sierologia quantitativa a 50 euro fino al 15 aprile chi aderirà alla campagna potrà inoltre usufruire di una tariffa agevolata sul vaccino per le lesmagnosi e sugli antiparassitari usati per la prevenzione chiamalo 06 9151 9151 o invia una mail a info.nsl-anicura.it Anicura Clinica Veterinaria NSL aspetta a te e il tuo fedele amico invia Fabrizio Luscino 83 a Roma e le vostre passeggiate resteranno indimenticabili Beh, come vi ha ricordato lo spot la campagna è attiva fino al 15 aprile quindi manca poco visto che io mi diverto a venire a fare queste riprese in clinica con il dottor Giuliano Sorrentino aderite, no? perché io poi vengo là vi vengo a disturbare e poi vi andate pure in onda su pronto vetto insomma, non è male a parte gli scherzi vi ricordo in cosa consiste la campagna di Anicura Clinica Veterinaria NSL appunto attiva fino al 15 aprile ovvero la visita clinica il colloquio col veterinario che è pure simpatico e mica è poco prelievo di sangue la sierologia quantitativa leishmania che ricordiamo non è un test rapido ma quantitativo il che significa che ha ovviamente una maggiore accuratezza poi nei risultati e poi tutti gli adopter che decideranno di appunto aderire a questa campagna avranno anche delle tariffe agevolate sulla vaccinazione e gli antiparassitari che ricordiamo ovviamente devono convivere col vaccino perché si fa insieme questa cosa per prenotarvi come potete fare ovviamente potete contattare direttamente la clinica veterinaria nsl al numero 06 91 51 91 51 che è anche facile da imparare a memoria oppure potete scrivere una mail a info.nsl chiocciolaanicura.it